La proposta del coordinatore cittadino di Montesilvano Futura, Mauro Orsini, di costringere le prostitute che svolgono la propria attività sul lungomare cittadino a indossare giubbini catarifrangenti per rendersi più visibili, sta suscitando in questi giorni una lunga scia di polemiche in città. Sono numerosi infatti commenti di movimenti politici e cittadini, soprattutto sui social network, a prendere le distanze da una proposta considerata ridicola, inutile e offensiva. A cominciare dal laboratorio politico della sinistra cittadina Montesilvano Social Lab, che esprime tutto il proprio disappunto nei confronti dell'idea lanciata da Orsini e attacca il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno. La prostituzione è un problema reale e va affrontata con quelli che sono gli strumenti a disposizione. Purtroppo abbiamo una regolorescenza del fenomeno qui a Montesilvano. Continua ad essere dell'idea che il fenomeno va contrastato attraverso l'impiego dei tradizionali canali, che spesso e volentieri ritengo purtroppo non siano efficienti al massimo. Stiamo cercando di implementare attraverso il comando dei vigili urbani, ma anche richiedendo l'intervento di carabinieri e polizia, i controlli per evitare o per fare in modo che questo fenomeno venga controllato e venga eliminato.